Come modificare indirizzo spedizione Amazon o come aggiungere un nuovo indirizzo spedizione Amazon. Per prima cosa andiamo a aprire l'applicazione di Amazon. Se non avete l'applicazione basta andare nel sito, vi logate e la stessa cosa come avere l'applicazione perché magari non volete avere l'applicazione potete farlo direttamente dal sito. Andiamo a cliccare qua in basso nell'icona in maniera che ci porta nel nostro profilo. Andiamo a cliccare il mio account e troviamo la voce indirizzi e qua in mezzo più o meno. Clicchiamo su indirizzi, qua io ho già due indirizzi, aggiungi nuovo indirizzo. Mettete tutti i dati del vostro indirizzo, potete sceglierlo come principale dopo averlo inserito o scegliete che ve lo chiede ogni volta perché magari avete due indirizzi e ve lo chiede ogni volta che volete comprare qualsiasi cosa. Idem anche per le carte, potremmo usare più di una carta e scegliere quella che vogliamo in quel momento e possiamo scegliere ovviamente di metterla anche come principale così non ce lo chiede ogni volta. Possiamo fare tutto ciò che vogliamo con Amazon. Direi che la procedura era semplicissima. Un saluto a tutti da Edward Simoni. Grazie a tutti.